Perché non te ne vai più a casa di Jacobs? La casa di Jacobs suppongo... Oh mio Dio, cosa diavolo è stupido? Che schifo! Mi aspettavo che gli avrebbero messo che ne so i cereali in bocca Non che il cane si sarebbe messo a leccare il latte dal tos... Mi fa schifo anche dirlo, non riesco a dirlo bene Oggi ragazzi riguarderemo dei video che sembrano illegali da guardare Esatto, siamo tornati a questo argomento Non so se avete presente tipo quei video nei quali vanno a mettere la maschera perfetta Sulla faccia delle persone, ma a quanto pare l'hanno fatto anche con Shrek, vi rendete conto? Io ve lo sto dicendo, l'essere umano si sta spingendo troppo oltre Stiamo toccando argomenti che non dovrebbero essere mai toccati Tanto l'ho già visto come finiscono questi video Ogni volta il risultato finale è inguardabile Però sapete che c'è Shrek, sono interessato nonostante tutto Posso dirvi una cosa? Questa scenetta qua per un attimo sembrava che lo stessero facendo Chad Col mascellone Immaginatevi tipo uno Shrek chaddone, bellissimo Andiamo a vedere al volo com'è il risultato finale di questo abominio È orrendo Dio mio mi bruciano gli occhi, ma che cavolo è di questo che sono fatti gli incubi Oddio immaginatevi tipo, vi arriva alle 2 di mattina uno Shrek con questa faccia qua Alla fine ho una sola domanda Perché? Perché non gli ha succhiato il dito? No sto scherzando, orrendo, bruttissimo No perché ormai mi ci sono troppo abituato che ogni volta che fanno queste scenette Alla fine il tipo dall'altra parte gli succhia il dito per qualche motivo Vi giuro ragazzi sto diventando più illegale io, madonna, dei video stessi ultimamente Mi sta corrompendo internet, è una cosa incredibile Sapete che evitiamo di soffermarci troppo perché ho paura di quello che potrei dire Andiamo al prossimo Queste scarpe sono un crimine contro l'umanità Mio dio quanto sono d'accordo Ok, a quanto pare ci sta facendo anche tutto Effettivamente sì Cosa sarebbe tipo un modo per dirmi che puoi fare qualsiasi cosa con queste scarpe? Va bene, mangia Usale per mangiare, forza, ti sfido Sapete che c'è, non mi fido più delle ricette di TikTok e cose così Ho già provato la mostarda con l'anguria, non è stata una buona idea Però vabbè vediamo dai Ok, l'urlo alla fine va bene Questa cosa si merita un arresto Cioè fatemi capire ci sono veramente persone che si mangiano la buccia dell'anguria Ma siete normali? Che poi ci posso scommettere quanto vi pare che questa qui è la stessa persona che magari se mangia la pizza lascia la crosta Ma che è oggi con le scarpe, ve lo dite? È orrendo, lo odio, lo odio tantissimo Questo è molto peggio delle scarpe di prima, fatemelo dire Che poi probabilmente tipo si suda tantissimo perché questa roba non mi sembra per un cavolo traspirante Ma poi sembra modellato effettivamente sui suoi piedi Vabbè evitiamo di concentrarci troppo su questa roba, saltiamo per favore, grazie Cosa diamine è questa cosa? Per quale motivo qualcuno si è messo a fare 5.000 passastrati di smalti per le unghie? Certa gente si deve trovare un passatempo che non sia questo Oh mio dio che poi è bruttissimo, madonna sto bastone che c'è che ti esce fuori dal dito Immaginatevi tipo tira fuori il piede e può fare Ah vado a che davra Se vede però in un certo senso sono curioso quanto potrebbe andare avanti con questa roba Dopo quanto tempo lo smalto crolla sul suo stesso peso E poi ora che ci penso come fa a fare qualsiasi cosa nella vita? Tipo roba semplice anche come dormire Per dire 5.000 astrati non è che li metti in mezz'oretta eh Devi anche lasciare asciugare tutto quanto quindi ho troppe domande È il popcorn che chiama va bene Questa cosa è talmente stupida ma allo stesso tempo divertente non so per quale motivo POV umorismo della generazione Z letteralmente Sta chiamando la polizia per autodenunciarsi appena fatto una cosa illegale Posso dirvi che io non capisco come cavolo fa 5 minutes crafts o qualsiasi cosa sia questa roba Ma penso sia quello A arrivare a fare queste cose Cioè io non capisco veramente come ti viene da pensare Sai cosa farò oggi? Sdoppierò le mie labbra Perché? Perché no? Sapete che cioè ora che ci penso gli dovrei chiamare Perché ho una richiesta per loro Volevo sapere se mi possono sdoppiare Un husky che diventa un chihuahua alla fine Come? Com'è possibile questa roba? Oh! Ma sapete che effettivamente sembra? Sì ma c'è qualcosa con le proporzioni di questo husky che non va bene Perché effettivamente il corpo ci sta tantissimo E' un chihuahua un pochetto storto eh Però nonostante tutto ci sta E' stato fatto stranamente bene Fatemelo dire Sostituire le ruote dello skate con tipo degli altri skate Skatini piccolini Non può funzionare questa roba Si romperà sicuramente quanto mi pare Però lo vorrei fare 3 2 1 Ok Come pensavo Però immaginatevi la gloria se avesse funzionato Secondo voi è possibile farlo effettivamente funzionare? Magari non per forza con lo skate ma Una bicicletta No la bicicletta non va Eh purtroppo nient'altro ci sta che si potrebbe sostituire Vabbè che tipo alla prima crepa che prendete esplodete Però sarebbe da provare Fuck it Tastiera verticale Cosa diavide sto vedendo? Che voi sapete che c'è anche abbastanza senso? No questa roba non dovrebbe esistere dai Sapete che c'è Cioè che ci stiamo Fuck it Questo video diventa verticale Che dite ragazzi vi piace questo aspect ratio? Madonna le persone che mi stanno guardando da cellulare adesso tipo non vedo niente E' molto più facile farlo in questo modo piuttosto che farlo bene Mio dio Tu mi stai facendo seriamente soffrire in questo momento Nooo Nooo Non i sedili Qualcuno per favore sopprima questa persona dai Sapete qual è la cosa che mi dà più urto? Il fatto che nonostante tutto non ha tolto nulla dall'interno della macchina L'ha lasciato così com'era Almeno se la pulisci che ne so leva dal cavolo le lattine Sei un pericolo pubblico Ecco cosa sei Torta di spaghetti Nooo Questa cosa è bruttissima Mamma mia Dimmi pure che se la alzi adesso rimane in un pezzo solo Vediamo attenzione Ok Lavoro di cameraman perfetto Ok Sì Funzio No Non funziona Comunque tipo guardando questo video almeno a 50 nonne italiane si è fermato il cuore Dai pensate positivo Avrebbe potuto metterci la nana sopra Poteva andare molto peggio Questa cosa la odio No dai Non la fare anche tu È bruttissimo Adattatore da hdmi a tubo da giardino Ok vediamo Attenzione Cosa diamine stiamo per Questa cosa è bruttissima Però allo stesso tempo per qualche motivo mi piace Bellissimo E questa è la famosa liquid retina della quale si parla al giorno d'oggi Devo ammettere mi sto bagnando solo a pensarci Puoi affilare una barretta di cioccolato Non lo so Penso di sì Ormai hanno affilato qualsiasi cosa A quanto pare l'hanno fatto C'è qualcosa di fastidioso nel vedere della cioccolata che taglia un pomodoro comunque Però devo ammettere che lo farei Lo farei molto volentieri anch'io Cioccolata al pomodoro Secondo voi No evitiamo Chissà se l'hanno mai fatto Non l'avevo visto Mamma mia Cioè fammi capire Dai da mangiare i pesci in questo modo Ma è stupendo Ragazzi state pensando a quello che penso io Voglio sapere quanto costa un pesce del genere Chiedo per un amico Ok Pelare i pokemon Partendo da Moltres suppongo Va bene Vediamo un attimo Per quale motivo Odì l'essere umano E tutte le cose collegate ad esso Attenzione Ok Sì È bruttino È decisamente bruttino Non so per quale motivo Gli ha anche rimpicciolito gli occhi Trovo che fosse una scelta non necessaria Però nonostante tutto Non lo voglio mai più rivedere in vita mia Cos'era Per favore ragazzi non lo dite ok Però sul serio Come fai a dare questa consistenza delle patate Qua però ci sta troppo la battuta Tipo Mamma possiamo andare a mangiare fuori No abbiamo il cibo a casa Il cibo a casa Facevo questa cosa alle banane Quando andavo all'elementari Tutti quanti lo odiavano Perché quella banane squishy Oh mio dio Ok No 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 Mi rifiuto Che poi se ci pensate Si è praticamente una sorta di yogurt alla banana Ma dio mio No Le banane in stato liquido Al di fuori della loro buccia Non devono uscire Nessun bambino è stato maltrattato Durante questo video Ok Cosa Non riesco a far scendere la lacrima Fuck Ci ho provato No 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 Grazie a tutti.